Ok, ciao ragazzi, sono sempre io il boss di Monopattini, vi faccio vedere una roba Xiaomi Pro 2, centralina accherata, questo è il mio, quello dei famosi 3000 km, come potete vedere ha 3000, quasi 100 km, adesso vi faccio vedere quanto va, ovviamente la centralina me l'ha accherata il mio amico Reggie, perché io non sono capace proprio a robe di centraline di qua, di là sono proprio negato come una scarpa, quindi va bene, questo qua monta la centralina V3, ok, se volete fare una cosa del genere, a parte che è illegale, e vabbè, e poi comunque gli Xiaomi, quelli nuovi Pro 2, quelli comprati dopo il 2022, non si può fare, ok, questi del 2020 sì, la centralina supporta questo firmware, gli altri dovete dovete riempirgli le piste di stagno, dovete rinforzare le piste, ok, ovviamente poi questa qua rinforzerò la pista e le farò caricare un altro firmware molto più potente, ok, bene dai, guardiamo insieme, sperando che non si stacca niente, perché sennò io poi devo rifare tutto, guardate, devo darle solamente una leggera spinta, poi vi ricordo sempre di iscrivervi ai seguenti canali, Mondo Elettrico Italia di Facebook, canale Instagram, il boss di Monopattine, infine canale YouTube, accendete la campanella che ne vedrete sempre delle belle, guardiamo insieme, questo è il mio Xiaomi, lo conoscete di già, quello che mi porto sempre in ferie, in vacanza, ed è andato dappertutto, che guardate, una leggera spinta, guardate quanto arriva, e via, non so se si può vedere, madonna, che pazzesco, calcolate che la batteria è al 93%, non è neanche carica al massimo, ok, adesso vi faccio rivedere, guardate, e come li prende, io l'ho provato, e i chilometri che vedete qui li fa anche con il mio peso fuori per strada, quindi è pazzesco, e poi è una cosa assurda come li fa, ok, vai, avete visto che picco, cioè guardate il picco, guardate il picco, picco di 42, picco di 42, picco picco di 42, madonna mia, e non c'è trucco e non ci inganno, guardate, guardate, è da zero, sta rallentando, avete visto, pazzesco, bella lì, guardate il picco, vi faccio rivedere l'ultima volta, non c'è trucco e non ci inganno, avete visto come è subito, all'istante, come dico sempre io, bene, questo è tutto, iscrivetevi sempre ai seguenti canali, ciao!